Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 28 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su Bitcoin. Allora, la prima riflessione che vorrei fare con voi è di carattere strutturale, ovvero, dato che qui stiamo avendo una bella discesa rispetto alla schifezza fatta con questa candela qui, mi permetto di suggerire una cosa, eventualmente ci sarà la possibilità di un passaggio a qui della partenza del t più 3 inverso. Questo perché? Perché il secondo t più 2 inverso può tranquillamente essere arrivato a 40 barre e perché quindi il primo t più 3 inverso può essere arrivato a 77. Quindi la partenza sarebbe, teoricamente, da spostare a qua. Ecco perché stiamo avendo un po' più spinta a ribasso prima di avere poi la risalita. Ricordiamoci che, dato che comanda comunque questo t più 4 inverso, siamo comunque vincolati a ribasso di inverso e quindi a rialzo per quanto riguarda i prezzi di Bitcoin. Mi capita purtroppo spesso di postare anche in alcuni gruppi Facebook e da altre parti le mie analisi e noto che purtroppo chi è le prime armi non capisce veramente nulla di quello che viene detto, però può criticare. Poi fortunatamente, visto che è dal gennaio 2018 che dimostro l'autorevolezza delle analisi che faccio, arriva qualcuno e dice ragazzo, senti, fai una cosa, prima capisci quello che viene detto e poi magari appunto ne riparliamo. Però volevo fare questa analisi rapida, molto rapida, un piccolo aggiornamento, per farvi ragionare soltanto su questa cosa. Per cui, dato che comunque siamo arrivati a 4 giorni e abbiamo violato questo swing qui di controllo, inizio a valutare questo genere di cosa, di spostare appunto qui il t più 3 inverso e quindi la partenza del secondo semestrale inverso. Per il resto continuiamo a essere sopra la media mobile a 50 periodi, quindi ci potrà essere rispinta per far partire non soltanto un terzo t, ma un eventuale secondo t più 1 bisettimanale, non soltanto un settimanale. Per permetterci questa salita dovremmo superare i massimi a 11.602 e poi proseguire verso l'alto, ovvero verso gli 11.774. Quindi, in caso contrario, attenzione. D'accordo? Vi ringrazio per l'ascolto molto rapido e vi prometto un aggiornamento o nel weekend o da lunedì in avanti. Buona giornata a tutti!